Allora, partiamo anche quest'anno con l'iniziativa Guarda ora al tuo futuro, che è la messa in pratica del metodo Ruffini, e cioè l'apertura al territorio, il coinvolgimento dei ragazzi nella progettualità, ognuno per il suo corso, con la partecipazione di personalità importanti del mondo dello sport, dell'agroalimentare, del turismo, dell'informatica e di Confindustria. L'obiettivo è dimostrare che la scuola è sempre più connessa al territorio e che noi insegniamo ai ragazzi ad aprirsi al mondo. Questo è il metodo Ruffini applicato per una settimana Guarda ora al tuo futuro. Oggi parte la rassegna di eventi dei Ruffini Guarda ora al tuo futuro. Arriviamo alla quarta edizione, ogni anno abbiamo sviluppato questo format. Al mattino i convegni con relatori e testimonial del territorio, con delle tematiche afferenti ai nostri corsi. Al pomeriggio i ragazzi studiano e si occupano di una challenge, che vuol dire risolvere un compito di realtà, cioè realizzare un progetto per la città di Imperia. Quindi questa duplice componente in questo format di successo che piace tanto ai ragazzi e che ci permette di presentare l'offerta formativa al territorio. Quest'anno ci siamo ispirati alle missioni del PNRR, quindi oggi partiamo con sport e inclusione. Domani ci sarà la giornata dedicata alla missione del PNRR legata alla transizione ecologica, quindi acqua e clima ambiente, poi avremo quella di mare e migrazioni, quindi la missione dell'inclusione e poi quella, la prima missione del PNRR, che è quella legata all'innovazione digitale, turismo e cultura. Innanzitutto mi sento di fare i miei complimenti a Ruffini, perché l'amico Ronco sta facendo grandi iniziative insieme a questo corpo docente per coinvolgere i giovani e spiegare loro diversi temi importanti. Oggi si parla anche di inclusione, di disabilità, temi assolutamente attuali e che i ragazzi, i nostri ragazzi devono conoscere e imparare. Beh, regione stiamo facendo molto, noi come regione abbiamo da poco finanziato il maggiordomo di quartiere, ovvero delle figure che saranno sul territorio per dare risposte e aiutare le persone ad affrontare quelli che possono essere i problemi quotidiani. Per l'inclusione abbiamo finanziato con lo sport la possibilità col Fondo Sociale Europeo a circa 7.000 Liguri di poter fare gratuitamente lo sport perché magari avevano problemi di natura economica o sociale, quindi abbiamo lavorato molto sull'inclusione. e anche altre iniziative su questi argomenti proprio per fare in modo che i ragazzi con disabilità o i ragazzi, come dire, meno fortunati, che hanno meno opportunità non debbano rimanere indietro, non debbano essere esclusi ma si debbano sentire coinvolti come tutti gli altri. La Liguria ha l'ambizione di diventare sotto molti punti di vista una regione modello anche sotto il punto di vista dell'inclusione, tenendo le porte aperte a tutti, mettendo tutti nelle condizioni di poter studiare, di poter lavorare e di poter realizzare anche i propri sogni.